Filippo Capellupo, il presidente dell'UMPLi Calabria, siamo qua alla Mezzia per il corso di formazione OLP per il servizio civile. Sì, operatori locali di progetto che sono a diretto contatto per tutto l'anno con i ragazzi del servizio civile nelle prologo. Sono coloro i quali indicano la strada. Oltre al direttivo della prologo, loro sono molto più vicini perché devono assolutamente dare ascolto a tutte le esigenze, ma devono anche e soprattutto indirizzarli verso quello che è il progetto iniziale e poi anche per la formazione del luogo dove loro vivono e di tutto ciò che è economia o che è importante per quello che è il cammino di una prologo. Bene, che significa stamattina? Stamattina quando si parla dei formatori abbiamo avuto il piacere di avere degli amici che sono collegati all'interno dell'UMPLi con noi che sono il massimo perché sono coloro i quali guidano non soltanto come funzionari a livello nazionale il movimento del servizio civile ma soprattutto sono formatori dei formatori. Ecco, proprio Lorenzo il ringraziamento va di tutti quanti noi perché è sempre la persona che ci sta a cuore perché insieme con Bernardina che è la responsabile nazionale sono i due riferimenti importantissimi alla quale noi facciamo sempre ogni giorno, disturbiamo ma soprattutto facciamo opera di convincimento per la risoluzione dei nostri problemi. Bene, che dire? Finisce la prima parte della mattinata, oggi pomeriggio ricominceremo e poi finalmente cominceremo a riportare anche queste ultime importanti notizie che saranno quelle che ci daranno l'opportunità di poter fare qualche altro passo in avanti verso la formazione dei ragazzi. Grazie a tutti.